Il 21 agosto del 2008 e questa è la sottessima stagione con la maglia del Napoli. Oggi il San Paolo festeggia con un enorme abbraccio il suo splendido traguardo della 300esima partita in Azzurro. Un grande abbraccio per il nostro Cristiano! Buon appetito! Buon appetito! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.